Siamo lo Stato in questo momento, vogliamo dare con la nostra presenza un segno di vicinanza al territorio ma soprattutto di concretezza perché noi vogliamo che questo progetto che oggi è partito con noi qui venga portato avanti e noi come ho detto verremo in maniera costante già a febbraio proprio per verificare e per dare perché la situazione di Foggia è una situazione, se ne mettiamo la sezione della TIA vuol dire che avrà un qualche significato e allora noi quello che non vogliamo è che i cittadini non sentano lo Stato presente ecco quindi anche il fatto di essere qua alla Ruggine di Natale, io secondo me colgo anche l'occasione voi presenti veramente gli auguri a voi di un buon Natale, di un anno nuovo, più sereno di quello che è trascorso ma che comunque possa dare dei risultati, che possa dare delle risposte a questo territorio e noi per quello ci impegniamo, per quello siamo qua, grazie